Maxi operazione antidroga tra Sardegna, Molise e Toscana. I carabinieri hanno eseguito 17 provvedimenti cautelari, 7 custodie cautelari in carcere, 9 sottoposizioni agli arresti domiciliari e un obbligo di dimora emessi dal GIP del Tribunale di Cagliari. Si moltiplicano i progetti di megaparchi eolici offshore sulle coste Sarde. Il Comitato Portosolchi solleva il problema della mancanza della politica in una fase così importante per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Il Museo Paleontologico Martel di Carboni ha compiuto 30 anni. Nostra intervista al professor Gianluigi Pillola, domani proporremo su questo evento un servizio speciale. Carloforte in festa per la promozione della Verde Isola. La società guidata dal presidente Giuseppe Buzzo punterà in alto anche il prossimo anno. Il sindaco Tore Pugioni annuncia un grande intervento di sistemazione dello stadio con 700 mila euro, speciale al termine del Tg. Ben ritrovati all'appuntamento con il nostro telegiornale. Apriamo questa edizione con la maxioperazione antidroga portata a termine questa mattina dei carabinieri in Sardegna, Molise e Toscana. Vediamo i particolari nel servizio. Un'imponente operazione antidroga è stata portata a termine nelle prime ore di oggi nei territori dei comandi provinciali di Cagliari, Oristano, Matera e Siena dove i carabinieri del lucro investigativo di Cagliari, supportati dai comandi territorialmente competenti, unitamente a personale dello squadrone riportato Cacciatori Sardegna e Undicesimo NEC, hanno eseguito 17 provvedimenti cautelari, 7 custodie cautelari in carcere, 9 sottoposizioni agli arresti domiciliari e un obbligo di dimora, emessi dal GIP del Tribunale di Cagliari su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di altrettanti indagati appartenenti a quattro autonomi gruppi criminali dediti al traffico internazionale e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini coordinate dalla locale direzione distrettuale antimafia di Cagliari hanno permesso di dimostrare come i quattro gruppi criminali locali, indipendenti tra loro, sfruttando differenti canali di approvvigionamento, si dedicassero allo spaccio di singole tipologie di stupefacente, divenendone in breve tempo i punti di riferimento per il mercato del centro-sud Sardegna. In particolare la cocaina veniva reperita sull'isola, l'eroina acquistata da un gruppo di nigeriani stanziati nella provincia di Cagliari. La marijuana hashish proveniva da piantagioni ubicate in questa regione, la ketamina e MDMA venivano importate dalla Germania, dall'Olanda e dal Regno Unito. L'attività, che ha ricostruito in parte anche la filiera dell'approvvigionamento dello stupefacente dall'estero, ha permesso di acclarare come la ketamina provenisse dai Paesi Bassi, Germania, esclusivamente in forma liquida all'interno o di bottiglie di vino con etichette di pregio identiche alle originali, oppure all'interno di flaconi di shampoo prodotti di cosmesi appartenenti a noti marchi commerciali. L'attività di indagine in esame ha consentito di effettuare 20 arresti in flagranza di reato e 4 deferimenti in stato di libertà, nonché di sottoporre a sequestro 1.142 grammi di eroina, 418 grammi di cocaina, 23.840 grammi di hashish, 2.308 grammi di maruiana, 3.027 grammi di ketamina, all'epoca di fatti il maggior sequestro a livello nazionale, 56 grammi di MDMA, 15 flaconi di metadone e la somma contante di 7.230 euro. Mercoledì 11 maggio alle 11 presso la Sala Reunioni di Casa Fenua Villa Massargia il Centro Studi Agricoli terrà una riunione informativa sulle ultime novità in agricoltura previste dalle leggi nazionali e regionali. Si parlerà di PSR Sardegna, indennizzi, sgravi previdenziali, bando agrisolare per le aziende agricole, indennità bloccate in ritardo, della nuova PAC e del premio unico, situazione del prezzo del latte di pecora, del bando impresa donna, del nuovo bando Ismea. Verrà inoltre illustrata l'iniziativa per contrastare l'aumento dei prezzi di mangimi, concimi, costo dell'elettricità e gasolio agricolo. aprirà i lavori il sindaco di Villa Massargia, Deborah Porrà. La parte centrale sarà tenuta da Tore Piana, presidente del Centro Studi Agricoli, componente del tavolo del partenariato nazionale sulla PAC, convocato dal Ministero, dal Ministro Stefano Patuanelli. La prossima riunione informativa è già stata fissata per fine maggio a Villa Puzzo. Si è svolta ieri a Sassali, presso la parrocchia del quartiere del latte dolce, l'assemblea provinciale dei soci della Prometeo ATFODV, cui ha partecipato anche l'ufficio di presidenza regionale composto dal presidente Pino Argiolas, il vicepresidente Stefano Caredda e il tesoliere Enrico Pizzalis. L'assemblea è stata occasione per esaminare i dati sulle donazioni e i trapianti d'organi nella nostra isola, come risultanti dal recentissimo report del Centro Nazionale dei Trapianti. Tale report confronta i dati complessivi del 2021 con le proiezioni del 2022 basate sui dati del primo trimestre. Ne emerge una preoccupante situazione che purtroppo pare coinvolgere anche la rianimazione del Santissimo Annunziata di Sassali, la quale negli scorsi anni ha realizzato oltre il 50% delle donazioni di tutta la regione. Le proiezioni per la Sardegna mostrano un potenziale crollo delle osservazioni di morte encefalica che passerebbero da 109 del 2021 a 57 nel 2022, mentre per i donatori utilizzati per regione si passerebbe dai 58 del 2021 a 32 del 2022 con solo 13 trapianti complessivi. I soci hanno quindi eletto il nuovo coordinamento provinciale di Sassali attualmente composto da Marco Di Battista di Sassali, Gianni Sanna Sassali, Stefano Elias Olbia, Giuseppe Serra Sassali, Tonino Piras Alghiero e Roberto Piras Sassali. Infine è stato confermato a Marco Di Battista, trapiantato di fegato sassarese, il compito di guidare il coordinamento provinciale che a breve riprenderà anche l'attività di sensibilizzazione con eventi in presenza. Il Consiglio Comunale di Nuoro ha approvato all'unanimità il nuovo regolamento che ne disciplina il funzionamento e lo svolgimento, modificato con l'obiettivo di ottimizzare e aumentare la produttività dell'aula, nonché di rendere maggiormente partecipi cittadini sui lavori che si svolgono al suo interno. Il documento arriva dopo un accordo raggiunto tra maggioranza e minoranza e a seguito di una lunga discussione avvenuta in conferenza di Capigruppo, durante la quale è stato deciso di accogliere alcuni emendamenti al testo proposti dalla minoranza che ne ha ritirato altri. In particolare sono stati accolti gli emendamenti sull'articolo che introduce la possibilità di partecipare al Consiglio in videoconferenza e su quello che regolamenta gli interventi in aula, argomenti sui quali si è comunque deciso di tornare in successive riunioni della conferenza di Capigruppo. È stato definito un vertice estremamente proficuo quello che si è svolto a Ploaghi tra i sindaci dell'Unione del Coros e la vice ministra per lo sviluppo economico Alessandra Todde. L'incontro che è stato ospitato presso il salone dell'ex convento dei Cappuccini è stato promosso dall'assessore dell'Unione del Coros Gian Mario Ninniri. I lavori sono stati introdotti dal presidente Carlo Soggiu. Tra i temi trattati la riduzione dei servizi essenziali come la chiusura di alcune scuole, l'assenza dei medici di base e la riduzione dei servizi sanitari, l'attuazione della legge sui piccoli comuni passando per l'esigenza di infrastrutture materiali e immateriali e l'attuazione del PNRR. Altro elemento di discussione sempre con noi che piccoli centri è stato super bonus 110 per cento per le unifamiliari tipologia edilizia tipica di questi comuni. Dal canto suo Alessandra Todde ha ribadito l'impegno del governo, soprattutto tramite le risorse del PNRR, per creare nei piccoli e medi comuni come quelli del Coros quelle infrastrutture e quei servizi necessari su questo fronte ha anche preso atto delle criticità elencate dai comuni in merito alla redazione dei bandi e alle difficoltà connesse alla partecipazione agli stessi. Riguardo al super bonus la vice ministra ha confermato la propria volontà affinché la scadenza venga ulteriormente prorogata anche eventualmente con gli accorgimenti normativi emersi dalle proposte dei sindaci stessi. Siamo al consueto aggiornamento con i dati della pandemia. I contagi da coronavirus sono stati 916, i positivi accertati al Covid-19 in Sardegna su 5.934 tamponi eseguiti, nelle ultime 24 ore 142 diagnosticati da tampone molecolare, 774 da antigienico. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8, lo stesso dato quindi è rimasto invariato del giorno precedente. I pazienti ricoverati in area medica sono 272, qui c'è un incremento di 6 unità, un incremento anche nel numero delle persone in isolamento domiciliari, 107 in più salgono a 26.035. Purtroppo ancora decessi, 3, una donna di 54 anni, residente nella provincia di Sassari, un uomo di 68 anni, residente nella provincia dell'Istano e una donna di 79 anni, residente nella città metropolitana di Cagliari. Dopo le richieste di concessione demaniale, che circonderebbero di pale eoliche e mari antistanti dell'isola di Sant'Antioca e San Pietro, arriva il turno del Golfo degli Angeli, che vede presentati al Ministero della Transizione Ecologica i progetti di due enormi parchi eolici denominati Sardegna 1 e Sardegna 2, il tutto con l'assordante silenzio della politica. Il grido d'allarme è arrivato a fine mattinata dei rappresentanti del Comitato Porto Solchi di Sant'Antioco con una nota nella quale sostengono di essere favorevoli alle pale eoliche a mare, ma a patto che non interferiscano con le principali rotte marittime, non danneggiano il settore della pesca e che soprattutto rappresentino una vera opportunità di ripresa socio-economica per i sardi. Su questa materia torneremo nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Si è svolta ieri a Villa Massarge l'undicesima edizione dell'iniziativa a cavallo per le vie del Cammino Minerario di Santa Barbara, organizzata dall'Associazione Cavalieri di San Ranieri, che ha visto ben 53 cavalieri più un cospicuo numero di persone che hanno voluto condividere una giornata all'insegna della natura e della scoperta del territorio. Alle 8 del mattino i cavalieri sono partiti all'altezza del chilometro 35 della strada provinciale numero 2 per poi raggiungere la miniera dismessa di Orbaie. È stata un'occasione di incontro, condivisione e rinascita dopo il lungo periodo della pandemia, come hanno sottolineato con soddisfazione gli organizzatori. Vediamo un servizio. Siamo in noi con Maria Grazia, organizzatora di questa bella iniziativa. Maria Grazia, oramai questa edizione numero di undi che gusta, però è stata questa pausa di questa pandemia che posata un ubago lasciato a perna rimosso e non accadde. Finalmente è stata una trotta in noi, sono dicesima edizione del drinking villa massaggese accadde. Finalmente è stata ripartita dopo due anni della pandemia, i amici hanno risposto bene a questa iniziativa. È un'occasione del 60 quadro, 23 chilometri di percorso, percorso dei passaggi del sotto umano, fino a questa miniera di Orbaie. In giardino Zarafai su Murzo, Zara Teni su Murzo, una condivisione tra amici. Dottor Secci, in dite consiste di in si specifico questa iniziativa? Questa iniziativa è stata sempre fatta ogni anno, in sui mesi di Arbilli, in maniera di fare via a tutti i ragazzi, chi si è o si chi, sia di noi, di sui sulci, ma anche di sui campi danni, di sui nuori, in maniera di fare via a tutti con questa nostra campagna, sui boschi, sicuro, è una meraviglia che noi siamo in Villa Massargia. Il squadro è stato appassionato in un po' di tempo, ma ci sono tornato a allenare proprio con questa iniziativa e ora speriamo di andare a fare via a 3, in maniera di andare a riprendere bene e di fare conoscere sempre il territorio sul territorio. Poi iniziai in un motivo di ripartenza, l'utilizzo del squadro, iniziativa, sicuramente si è appassionato, si va ai pregeri e vorrei invitare sempre più gente a migliorare tutto il territorio, sia di Villa Massargia ma di tutto il sulci. Nel 1972 il gruppo ricerche speleologiche Martel fondava il museo paleontologico Ea Martel, divenuto civico nel 1996 grazie alla donazione, incomodato d'uso, delle collezioni all'amministrazione cittadina di Carbonia. La collezione storica del Martel è stata implementata con importanti reperti in originale e in calco di grande interesse scientifico che hanno consentito di rinnovare completamente i criteri dell'allestimento per il pubblico. Sabato pomeriggio, in occasione del trentennale, la sala riunioni del museo ha ospitato un interessante convegno nel corso del quale abbiamo realizzato due interviste. Vi anticipiamo uno straccio delle stesse. «Questo non è che un traguardo, un momento da ricordare, che però fa anche il punto su cosa potrà essere questa realtà integrata proprio nel sistema culturale di tutto questo territorio». «Ecco, è un patrimonio che ha conquistato Gianluigi Pillo?» «Conquistato nel senso che sta dedicando da anni alla sua valorizzazione buona parte del suo impegno professionale». «Sì, mi occupa di questo museo, ma è anche quello dei musei universitari, come missione proprio didattica perché è il mio lavoro, ma il lavoro si può svolgere così in maniera molto chiusa, molto regolarizzata, invece per me è proprio anche una passione come funzione sociale di trasmissione del sapere». Da alcuni giorni giungono alla nostra redazione alcune segnalazioni per riferirci della presenza di un grosso cane bianco, presumibilmente un labrador, sulla strada che porta verso la spiaggia di Maradroja a Sant'Antioco. In particolare l'animale è stato avvistato più volte nei pressi del depuratore. Oltre a costituire un pericolo per sé, il cane di grossa taglia sta rappresentando un pericolo anche per automobilisti e motociclisti. Sembrerebbe che la situazione sia già stata segnalata alle autorità competenti, ma il povero animale si trova ancora per strada. È stata issata ieri mattina sulla facciata del Comune di Carbonia la bandiera della Croce Rossa italiana. È stata celebrata domenica 8 maggio, infatti la giornata mondiale che ne ricorda l'anniversario di nascita nel 1864. Rendiamo omaggio alla più importante associazione di soccorso del nostro Paese, nata 158 anni fa con il convegno di Ginevra e a seguito delle sanguinose guerre di indipendenza. Ha spiegato il sindaco Pietro Morittu che con l'assessore alle politiche sociali Roberto Gibilini ha accolto una delegazione della Croce Rossa italiana in Comune per la consegna della bandiera. La sede locale della Croce Rossa si trova a Cortoghiana e conta 32 volontari. Toleranza a zero verso gli incivili è la parola d'ordine dell'amministrazione comunale di Sassari che ha deciso di intensificare ulteriormente i controlli nei confronti di queste persone. Nei prossimi giorni entreranno in servizio due agenti della polizia locale che si occuperanno esclusivamente di illeciti ambientali. Soltanto nel 2022, infatti, il Comune ha già sanzionato 570 incivili, ripulito gli scarichi illeciti e trovato i responsabili che sono stati obbligati a pagare non soltanto la multa ma anche tutte le spese affrontate per il ripristino dei luoghi. Diffondere la conoscenza tra gli studenti rispetto alle potenzialità progettuali offerte dall'Art Lab dell'Accademia di Belle Arti Mario Siloni è l'obiettivo del progetto dal titolo Luce, un percorso nel quale gli studenti dovranno pensare, progettare, infine realizzare utilizzando in tutto in parte le dotazioni tecnologiche dell'Art Lab della Siloni, oggetti che abbiano nella luce artificiale o naturale la propria essenza estetica. Le idee progettuali elaborate dagli studenti prendono in via dalla concezione manuale sino alla definizione fisica degli oggetti attraverso singole revisioni individuali per poi passare alla vera e propria elaborazione digitale in vista della realizzazione finale attraverso le strumentazioni offerte dall'Art Lab, stampanti 3D, vari formati, taglio laser, termo formatrice. L'Istituto Tecnico Lorenzo Mossa di Oristano ha ospitato nei giorni scorsi la fase finale del progetto Datti una Mossa, sviluppato da Acube, incubatore e acceleratore di start-up ad impatto sociale, ambientale e culturale e Appli Consulting, società di consulenza specializzata in servizi di supporto all'avvio di imprese e di innovazione alle imprese con l'obiettivo di fare sperimentare agli alunni i passi per lo sviluppo di un'idea imprenditoriale sensibilizzandoli sui temi della sostenibilità e della innovazione sociale. Tre giorni molto impegnativi nei quali i ragazzi hanno avuto modo di mettere in pratica le loro prodotti comunicative e persuasive per riuscire a vendere quanti più prodotti possibili. Un festival diffuso in cinque capoluoghi dell'isola per coinvolgere i cittadini e far conoscere i progetti finanziati dall'Unione Europea che concorrono a migliorare la vita quotidiana dei sardi. Cinque città con epicentro la manifattura tabacchi di Cagliari che ospiterà talk, quiz, musica, sport, dibattiti e altre iniziative. Quanto ha messo in campo l'autorità di gestione del POR, FESR, Sardegna, centro regionale di programmazione in occasione della giornata dell'Europa che si celebra il 9 maggio di ogni anno, data che segna l'anniversario della storica dichiarazione in cui l'allora ministro degli esteri francese Robert Schumann espose l'idea di una nuova forma di collaborazione politica in Europa che avrebbe reso impensabile la guerra tra le nazioni europee, una data che per evidenti ragioni legate al conflitto in corso da oltre due mesi in Ucraina assume oggi un particolare significato. Si chiama Sold House, l'esposizione allestita a Senis dove si possono ammirare 22 abiti e armature appartenute a personaggi vissuti nei diversi periodi della storia sarda. Una mostra in evoluzione hanno sottolineato i curatori Alessandro Azieni e Sandro Garau che accorpa continuamente nuovi personaggi arricchendosi di nuovi soggetti. Tutte le ricostruzioni sono eseguite con la collaborazione di archeologi e storici alternando la ricerca tra fonti archeologiche, documentarie, studio degli abiti e delle rappresentazioni artistiche. In un pannello a muro una ricca riproposizione di spade di diversi periodi, poi una selezione di elmi e scudi e la ricostruzione di un'antica fucina. Un'altra sezione è dedicata alla tessitura con un arcolaio originale ottocentesco, un telaio verticale e un orizzontale corredato di lana e fusarole. E distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, continua la sua attività formativa per gli studenti sardi e grazie alla continua collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica della Facoltà di Ingegneria di Cagliari, ha ospitato 15 studenti del corso di Smart Grid per la distribuzione e l'utilizzazione dell'energia elettrica tenuto dal professor Fabrizio Pilo, ordinario di Sistemi Elettrici per l'Energia di Cagliari e prorettore delegato al Territorio e all'Innovazione nel Centro di Formazione e Addestramento Operativo della Sardegna di E-Distribuzione Sito a Quartuccio. La visita si inserisce come approfondimento didattico agli studenti universitari del corso di laurea in Ingegneria Elettrica, Elettronica ed Informatica, accompagnati dal professor Emilio Ghiani, associato di Sistemi Elettrici per l'Energia ed è realizzata nell'ottica delle attività di formazione e istruzione di e-distribuzione a favore delle istituzioni formative in Sardegna. Dopo il successo dell'iniziativa su Sardini Scola a Olmedo, l'Assemblea Nazionale Sard, ANS, con il gratuito patrocino del Comune di Ossi, ha organizzato il secondo incontro sul tema della introduzione delle lingue minoritarie nella scuola il 10 maggio, per domani quindi, presso il cinema Casablanca in via Sardegna, l'inizio è fissato alle 17.30. L'incontro sarà un'opportunità di formazione sul tema per gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo Antonio Gramsci di Ossi, che avranno l'opportunità ad interfacciarsi con esperti di psicolinguistica e linguistiche, compresi ed insegnanti di scuole che già praticano l'insegnamento plurilingue nei loro istituti. Il fine e ultimo di questa serie di incontri spiegano i soci di ANS e fare in modo che gli insegnanti, consapevoli dei benefici del plurilinguismo per i ragazzi, facciano rete fra loro, si supportino e si scambino esperienze e replichino i modelli vincenti già esistenti, come quello dell'Istituto Comprensivo Sata Fois di Perfugas. Continua intanto la cooperazione tra l'Università degli Studi di Sassari, l'Istituto Comprensivo Sata Fois di Perfugas, l'Associazione Spaciada Sa Bregunja, l'Associazione Corona dell'UVU e l'Assemblea Nazionale Sarda per la realizzazione di questi incontri a tema. Siamo nuovamente alla cronaca, poco dopo le 23 vigili del fuoco sono intervenuti ieri in via Petta ad Olbia per l'incendio di un'auto, una Golf Volkswagen. Il rapido intervento degli operatori ha evitato che l'auto venisse completamente distrutta e che le fiamme si propagassero alle auto vicine. Sull'ipotesi del rovo non viene esclusa nessuna causa. Sul posto sono intervenuti anche la polizia e i carabinieri. Siamo al calcio nella parte finale del nostro telegiornale. È stata festa grande ieri a Carloforte in occasione dell'ultima giornata del giorno A del campionato di prima categoria. Il calendario proponeva la verde isola già promossa in promozione la domenica precedente dopo il pareggio del derby di Sant'Antioco con l'Antiocchense e un altro derby con l'Atletico Villa Peruccio dell'ex Michele Miledu. Da parte sua è tranquillo perché già salvo. La partita sul piano tecnico, ha detto poco, come era facilmente prevedibile, sono maturati sei gol per la vittoria della verde isola per 4 a 2 con la ciliegina finale del calcio di rigore trasformato proprio da lui, Michele Miledu, 46 anni, sceso in campo nell'ultimo scorcio di partita. Al fischio finale sono scattati i festeggiamenti. Al termine del telegiornale vi proporremo uno speciale con le interviste al presidente Giuseppe Buzzo, al tecnico Pasquale Lazzaro e al sindaco Tore Pugioni, nel quale vi anticipiamo la breve intervista con l'allenatore, il giovane Trentenne Pasquale Lazzaro. Lazzaro sotto lo spumante, un bagno di spumante per una grande gioia, una grande giornata, una grande festa, una stagione trionfale. Sono molto contento, pensavamo sin dall'inizio di poterci riuscire, però eravamo davanti a un girone complesso con squadre altrettanto attrezzate. Avevamo l'obbligo di vincere e ce l'abbiamo fatta. Diciamo un punto di partenza, certamente perché ero forte in un punto d'arrivo. Dicevo col sindaco che questo stadio verrà completamente rinnovato, quindi bisognerà onorare il calcio Tabalchino ancora più in alto. Io non sono attento alle questioni burocratiche, per questo c'è la società, sono comune società, siamo in buone mani. Io mi limito a fare il mio, che è quello di provare a fare il massimo, ottenere gli obiettivi che mi vengono chiesti, il mio lavoro in campo, fuori va bene quello che fanno loro. Diciamo che siete ripartiti da zero, dalle fondamenta e forse è la cosa migliore, costruire passo dopo passo, per mettere solidità. Quando avevo fatto promozione play-off e play-out mi sembrava che qualcuno mi stesse dando un regalo, quindi quando c'è stata la possibilità di ripartire dalla terza, l'ho fatto buttandomi ci dentro totalmente. Era giusto che anch'io facessi la gavetta, perché non so nessuno e non lo sono tuttora. Devo fare terza, seconda, prima, promozione, vediamo, vediamo. Sono contento. È terminata in parità 1-1 la prima partita del play-out salvezza tra Fermasenti e Gonos Fanadiga, disputata ieri a San Giovanni Suergio. La squadra allenata da Gianni Manicca è passata in vantaggio al quarantesimo del primo tempo con un calcio di rigore trasformato da Alessandro Cosa ed è stata raggiunta la mezz'ora della ripresa da un gol di San Martino. Domenica prossima si replicherà, si giocherà la seconda partita a campi invertiti, il Gonos Fanadiga partirà con il vantaggio di poco conto di avere a disposizione due risultati su tre, vittoria e pareggio, perché con due pareggi e quindi anche un uguale differenza a retti. A decidere quale delle due squadre si salverà e quale invece retroaccederà in prima categoria sarà il miglior, in questo caso sarebbe il miglior piazzamento al termine della stagione regolare che ha visto il Gonos Fanadiga classificarsi undicesimo davanti alla ferma senti dodicesima. Era questa l'ultima notizia di questa edizione del nostro telegiornale, io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che al termine trasmetteremo lo speciale sulla promozione della verde isola in promozione regionale, festa grande ieri a Carloforte e naturalmente vi do anche appuntamento alle nostre prossime edizioni. Grazie, buona giornata. Grazie.